Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, buon 25 aprile. Siamo pronti come sempre con refresh a leggere insieme la rassegna stampa di oggi con tutte le notizie del giorno. Partiamo subito dalle prime pagine dei quotidiani con il Corriere della Sera. L'apertura allerta e tensioni sul 25 aprile, la vediamo insieme, cortei in tutta Italia, i timori legati alle proteste contro Israele. Intanto c'è un nuovo caso in Rai, Mattarella, Meloni, i presidenti delle Camere all'Altare della Patria, a Milano, filo palestinesi e brigata ebraica. Scrive Ferruccio De Bortoli nell'articolo di fondo oggi sul quotidiano del Corriere della Sera. Ottant'anni non sono bastati, ci siamo illusi in tutti questi anni che il 25 aprile diventasse veramente una giornata di memoria comune. La Repubblica, ormai la vita media di un italiano, il tempo di una generazione dovrebbe essere la garanzia della formazione di una coscienza collettiva. Un così lungo periodo di democrazia repubblicana non è però bastato per provare insieme orrore e vergogna per la tragedia di una dittatura che trascinò l'Italia in guerra. Cioè per fare i conti fino in fondo con la storia, scrollandoci di dosso, per esempio, l'autoconsolatoria retorica degli italiani brava gente. Ottant'anni non sono stati sufficienti perché tutti maturassero orgoglio e riconoscenza, sempre senza troppa retorica, per il coraggio dei partigiani e di tutti coloro che si ribellarono all'azifascismo. Così Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera di oggi. Restiamo sempre sulla prima pagina con due notizie che vengono richiamate in prima. L'allarme del ministro Giorgetti sui conti pubblici, il super bonus è un mostro, Giorgetti si dice addirittura pronto alle dimissioni. E poi la guerra a Gaza, Netanyahu, ora entriamo a Rafah, così l'esercito di Israele sarebbe pronto ad entrare a Rafah nel giorno in cui Hamas diffonde il video di uno stagio rapito il 7 ottobre con il braccio amputato. E poi quello che accade sul fronte del conflitto russo-ucraina, gli aiuti russo-ucraino, missili USA già in Ucraina, Biden avvisa se Mosca attacca, noi reagiremo. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato la legge che destina 60 miliardi di dollari in aiuti militari e finanziari all'Ucraina. Sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, invece si occupa anche di Piero Pelù, recentemente consulente artistico del Teatro Dante di Campi Bisenzi, abbiamo visto i servizi nel nostro appuntamento di Toscana TG. Il rocker, lo shock, la depressione, Pelù racconta di come è rinato l'incidente all'udito e la ripartenza. Io come il ferro, racconta Piero Pelù, che nella foto si vede all'undicesimo Festival del Cinema di Roma dopo uno stop forzato a esibersi in tour per questo incidente sul lavoro. È stato uno shock acustico, sempre sulla prima pagina del quotidiano Il Corriere della Sera, con l'università, medicina, stop al testo, così cambia l'accesso, primo sì alla riforma. E poi lo scontro, il governo va sotto, caos sull'autonomia, lega assente, è giallo sul voto, spiega Il Quotidiano Il Corriere della Sera. E adesso andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con tutte le notizie del giorno, lo facciamo con la prima pagina di oggi e il titolo principale. Eccoci qua, l'Italia è antifascista, un sondaggio di noto, fotografa un paese refrattario, ha revisionismi storici e convinto della necessità di celebrare il 25 aprile. Tra gli elettori di Fratelli d'Italia il 62% è contro il culto del ventennio. Città oggi in piazza, due grandi cortei a Roma e Milano, il ministro San Giuliano pronto a fare da scudo umano a Scurati. Vedremo poi questa intervista, era lasciato il ministro a Quotidiano La Repubblica. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, la proposta di Eli Schlein destinare alla sanità il 7,5% del prodotto interno lordo. E poi università, abbiamo letto anche sul Corriere della Sera, medicina, addio al numero chiuso, selezione dopo sei mesi. Sempre sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con le elezioni europee. Macron taglia fuori von der Leyen, il nome di Mario Draghi, continua a occupare la scena nelle discussioni per i top job della prossima legislatura. E anche il presidente Macron si schiera ovviamente a favore della candidatura di Draghi come commissario europeo. Andiamo anche sulla prima pagina della Repubblica, centro pagina con la fotonotizia. Rafa, conto alla rovescia per l'attacco, questo per quanto riguarda la guerra a Gaza. E poi sul conflitto russo-ucraino, Ucraina, i missili a lungo raggio americano sono già in azione, spiega il quotidiano in edicola. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con tutte le notizie del giorno, giusto il tempo di arrivare sulla prima. Eccoci qua, l'apertura, attenzione per i cortei del 25 aprile. Massima allerta per l'ordine pubblico, il ricordo della ribellazione e le manifestazioni pro-Gaza si intrecciano nelle piazze. Mattarella all'altare della Patria, poi in Toscana, Civitella Valdichiana, lo vedremo più tardi anche nella segna stampa locale. Il nostro sondaggio della Nazione con l'Istituto Piepoli, l'antifascismo è più forte tra i giovani. E poi a centropagina la fotonotizia, Medicina, via il numero chiuso, è scontro, iscrizione libera al primo semestre, poi tornano i test, spiega il quotidiano La Nazione. E poi Giorgetti difende il patto e il documento di economia e finanza, il super bonus spinge il debito. Il ministro è un passo avanti, allarme però di Banca Italia e della società di revisione dei conti, Fitch spiega il quotidiano La Nazione. Nel taglio alto poi le notizie che arrivano dalla Toscana, a Prato chiusa l'inchiesta, guerra fra baby gang, la faida italiani-cinesi finisce con 24 indagati. E poi la protesta di ieri a Carrara va in corteo la rivolta del marmo dopo le frasi dell'imprenditore del marmo, Franchi, che aveva declarato deficienti di operai che si procurano degli incidenti sul lavoro nelle cave. Questo è il punto, questa è stata la frase detta al report che ha scatenato un pandemonio e anche lo sciopero di ieri. Poi siamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con le notizie che arrivano da Firenze, morte di Mattia, spunta il video dei soccorsi al calciatore e ancora lo stop ai bus turistici nel centro storico con il piano di Sara Funaro, candidata del centro-sinistra. E poi questa notizia che riguarda i poliziotti che pagano la spesa al ladro bisognoso, vedremo poi in dettaglio questa notizia più tardi dalla segna stampa locale. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno con l'edizione di Firenze e Empoli, l'apertura Sentiamoci sempre liberati. La Toscana celebra il 25 aprile, Mattarella sarà a Civitella Valdichiana, da Empoli una storia simbolo di due coniugi combattenti antifascisti, questo spiega il quotidiano Il Tirreno. Parla anche Finaz, ovviamente che ha trascorso sempre il 25 aprile sul palco a suonare insieme alla banda Bardot, la musica contro il fascismo e poi l'intervento di Vannino Chiti, ex governatore della regione toscana, che sia la festa di tutti i cittadini. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno con le notizie che riguardano Firenze, ruba per fame i poliziotti gli fanno la spesa e poi il crollo nel cantiere si allungano i tempi della consulenza per quanto riguarda il crollo di Via Mariti e poi la Firenze nuova palestra da 7 milioni e 700 mila euro per l'agrario. Siamo a Empoli con Certaldo, verso le elezioni le liste a sostegno di Campatelli. Andiamo all'interno del quotidiano Il Tirreno, nell'edizione ovviamente del quotidiano di Livorno. Vedete un calcio a lutto, Mattia, la partita della vergogna perché ieri si è giocata ovviamente la partita che era stata interrotta per la morte di Mattia Gianni tra il Castel Fiorentino United e il Lanciotto Campi al Buozzi di Firenze. Gianni, presidente delle prime pietre, spiega il quotidiano Il Tirreno e poi ancora nel taglio basso a Coltano in provincia di Pisa, la palazzina Marconi è ancora ostaggio del degrado, tante promesse nel tempo ma il recupero appare lontano. Andiamo a Livorno, sosta senza lettera, oltre mille multe fatte da febbraio e poi sempre a Livorno in un mese 26 ride in scuole e locali, parla la questora. Andiamo anche sulla prima del quotidiano Il Tirreno con le notizie che arrivano da Cecina, l'appello di usperato di una disabile, non trovo badanti. E adesso occupiamoci anche delle notizie della pagina sportiva, lo facciamo con il Corriere dello Sport Stadio. Amaro Viola è il titolo di apertura, italiano resta in 10 e crolla nel recupero con un gol assurdo, apre Copp Miners, poi l'espulsione di Milenkovic e il pareggio di quarta. Raddoppia Scamacca al 95esimo la rete di Lukman dopo un contropiede incredibile. Chiude Pasalic e finisce 4 a 1 per la formazione bergamasca, ma la Fiorentina ovviamente è fuori dalla Coppa Italia, eliminata in semifinale. E poi la partita più breve dell'anno, c'è Udinese-Roma, Salvezza e Champions in soli 18 minuti alle 20. Esatto, si giocherà quello che resta di quella partita da giocare tra Udinese e Roma. De Rossi all'assalto, la fantasia di Di Bala contro Cannavaro all'esordio sulla panchina bianconera. Non ci sarà Lukaku che 11 giorni fa aveva segnato la sveltina come titola Ivan Zazzaroni sul quotidiano Il Corriere dello Sport Stadio. Andiamo avanti anche con i titoli della Gazzetta dello Sport, è giusto il tempo di arrivare sulla prima. Eccoci qua, derby per un'altra stella, duello per Zig Zig, Inter Milan continua sul mercato. E poi vedete nel taglio alto, Atalanta a Tella Juve, Fiorentina KO 4 a 1, il 15 maggio a Roma la finale. Scamacca super gol ma sarà squalificato e Viola restano in 10 e crollano nel recupero. Termina qua questa prima parte di Rassegna Stampa con tutte le notizie di oggi. Torniamo tra poco su Toscana TV e Firenze TV con refresh da Rassegna Stampa di oggi. Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Buon 25 aprile, abbiamo letto insieme i titoli e le notizie del giorno sulle prime pagine di oggi. Andiamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 2, le piazze del 25 aprile, i timori su Roma e Milano, la vigilanza sugli antagonisti e i piani di sicurezza per la presenza dei filo palestinesi e della brigata ebraica. Spiega il quotidiano del Corriere della Sera tra i leader attesi nel capologo Lombardo a Milano, dove c'è ovviamente la principale manifestazione, oltre al sindaco Schlein, Fratoianni e Calenda. Nel taglio basso poi invece si parla della giornata della premier Meloni con Mattarella all'altare della patria, il basso profilo di Fratelli d'Italia sulla ricorrenza. Per Tajani invece ministro degli esteri e vice premier cerimonia alle fosse ardiatine. Ma il presidente Mattarella più tardi sarà a Civitella della Chiana in provincia di Arezzo, come leggiamo anche sul quotidiano il Tirreno in primo piano, vedete la Toscana celebre il 25 aprile, Mattarella sarà a Civitella della Chiana, Mattarella in visita nei luoghi dell'Eccidio e poi il quotidiano La Nazione nell'edizione di Arezzo fa un approfondimento su questo. Eccoci qua, il giorno del presidente, siamo sulla prima pagina della Nazione di Arezzo, festa di liberazione con Sergio Mattarella che onora l'Eccidio di Civitella Valdichiana, dieci pagine sulla visita. Saluto con noi in collegamento Andrea Tavarnesi che è il sindaco di Civitella Valdichiana. Buongiorno sindaco e buon 25 aprile. Salve, buongiorno, buon 25 aprile a tutti. Senta, lei ha detto che aspettava un giorno così da 25 anni, a proposito della visita del presidente della Repubblica oggi nel suo comune per ricordare l'Eccidio di Civitella Valdichiana. Sì, allora per me è un'emozione particolare, penso che sia un giorno di festa per il comune di Civitella, un giorno di festa per tutta la Toscana perché poi poter festeggiare la liberazione insieme al presidente della Repubblica penso che sia veramente un sogno, un sogno per un sindaco, un sogno soprattutto per un cittadino di Civitella perché io sono proprio di quella frazione e il mio bisnonno è stato una delle vittime dell'Eccidio. Io tanti anni fa ho iniziato insieme alla Ida Valò e insieme ad altri a portare avanti quella che è un'associazione Civitella Ricorda, l'abbiamo fondata con lo scopo appunto di tramandare quella memoria. Quindi andare oggi a ospitare il presidente della Repubblica, a festeggiare la liberazione e ricordare i nostri morti in questo duplice ruolo per me è veramente un'emozione particolare. Ecco, eccoci qua, la strage degli innocenti, lo leggiamo all'interno del quotidiano Nazione di Arezzo, il parroco martire e la piccola vittoria salva nella soffitta. Il 29 giugno del 1944 i nazisti fecero 244 morti tra Civitella, Cornia e San Pancrazio. Il paese era affollato per il patrono, le storie di Don Lazzari e dei Lammioni, tutto questo si legge oggi all'interno della Nazione di Arezzo. I fascicoli sulle stragi nazifasciste in Italia erano stati insabbiati per equilibri politici da guerra fredda. Ora poi al di là, diciamo, di tutta la storia dei fascicoli sulle stragi, però c'è stata da sempre, Sindaco, e lei lo sta testimoniando, l'ha testimoniato proprio nelle parole che ci spiegava pochi istanti fa, una comunità che ha vissuto la memoria di quella tragedia. Senza dubbio è stata una memoria difficile da tramandare, ma penso anche alla scelta che abbiamo fatto di invitare oggi tutti quelli familiari delle vittime che sono ancora in vita, quindi che hanno visto morire il babbo, la mamma, quindi persone che hanno più di 80 anni necessariamente, e le abbiamo un po' rintracciate, chiaramente nei territori, in tutta Italia, anche dall'estero. Abbiamo avuto veramente una risposta importante di tutti per venire poi a ascoltare quello che è il Presidente della Repubblica in questo giorno importante. Quindi una memoria che è stata difficile, ma una memoria che pian pianino si sta riunendo. Senta, quei familiari attendono ancora i risarcimenti, dal 1944 siamo nel 2024, è passato un po' di tempo, è diventata adulta questa strage. È passato un po' di tempo, innanzitutto il più grosso tempo che è passato è per identificare i colpevoli, non ci scordiamo mai che per identificare i colpevoli poi ci è voluto più di 60 anni, e quindi è stato un percorso difficile che forse non si è voluto fare. Poi c'è stata questa possibilità, che non è un indennizio economico, ma è un piccolo gesto, poi è un riconoscimento da dare alle famiglie, questo fondo messo a disposizione dal Presidente Governo, che purtroppo tutti coloro che ora hanno fatto, poi hanno attivato questo fondo, ci sono, sappiamo, delle difficoltà per poter poi riuscire ad ottenere poi quelle che sono le risorse di questo fondo. Quindi mi auguro che si riesca il prima possibile a trovare una soluzione. Senta, ci racconta invece di questo progetto futuro che lei, diciamo così, vorrebbe realizzare insieme alla comunità, quello di realizzare un museo sulla strage di Civitela Valdichiana? Questo è un progetto ambizioso, noi per fare la Sala della Memoria con l'Associazione Civitela Ricordi del Comune ci abbiamo messo 50 anni per quella che era la nostra memoria divisa e che è stata una memoria complicata da tramandare, però ce l'abbiamo fatta, penso che la visita del Presidente alla Repubblica oggi non sia un punto di arrivo, ma sia un punto di partenza, appunto nell'andare poi a realizzare un vero e proprio museo che parli appunto della storia di Civitela e non solo, nei locali sopra dove è l'attuale Sala della Memoria, quindi uno spazio molto più grande, molto più accogliente, uno spazio che sappia soprattutto parlare alle nuove generazioni, quindi attraverso anche la tecnologia e che sappia anche trasmettere emozioni. Questo è il progetto che abbiamo, abbiamo già uno studio importante che stiamo facendo e speriamo di poterlo realizzare a breve. Sindaco, oggi hanno un ruolo importante nell'evento, nella visita del Presidente Mattarella, anche gli studenti, ce lo racconta? Penso che la scelta dell'amministrazione, del Quirinale, di andare poi a trovare posto dentro quella che sarà la tenso struttura dove ci saranno delle celebrazioni, a quelli che sono i ragazzi delle scuole di Civitella, di Bucine, di San Pancrazio, ma anche il parlamentino degli studenti della regione toscana, lì penso che sia veramente importante, anche perché poi c'è necessità di andare a tramandare la memoria da chi poi l'ha vissuta, che saranno lì, quelli che ha visto proprio con i propri occhi la ferocia della guerra e soprattutto le nuove generazioni, perché è proprio a loro che dobbiamo trasmettere quelli che sono i valori del 25 aprile e soprattutto un significato di pace, perché purtroppo ancora oggi in molte parti del mondo ci sono tante, tante, tante Civitella. Allora, grazie Sindaco, è una lunga giornata, appuntamento alle 10.25 con l'arrivo del Presidente, poi dalle 10.40 sarete in diretta su Rai 1, la cerimonia ovviamente sarà trasmessa in diretta dal Servizio Pubblico. Grazie Sindaco, buona giornata e buon 25 aprile. Grazie, buona giornata a tutti e buon 25 aprile. Grazie Andrea Tavarnesi, Sindaco di Civitella Valdichiana, e vedete proprio la giornata di oggi a Civitella, la mattina speciale con Mattarella, il Presidente arriva con l'elicottero, poi l'omaggio ai luoghi della strage, arrivo previsto alle 10.25 allo stadio di Badia Alpino, poi con la scorta dei corrazzieri il Capo dello Stato arriverà in Piazza Beccattini, dove c'è la tensostruttura, la cerimonia durerà un'ora e andrà in diretta su Rai 1. No, anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto è atteso questa mattina a Civitella Valdichiana in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile con il Presidente Mattarella. Dunque questo è l'appuntamento principale di oggi in Toscana, poi ce ne sono tantissimi, ma li leggeremo ovviamente più tardi, nella rassegna stampa locale. Torniamo invece alle altre notizie sul quotidiano Il Corriere della Sera. Non si avveleni il clima, i valori frutto della resistenza devono essere comuni. Parla il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, le strumentalizzazioni a fini politici non aiutano. E poi sempre sul Corriere della Sera, quelle brigate con la Stella di David, che dal Sud Italia arrivarono fino al Po, Giorgio Sacerdoti, ex capo della comunità di Milano, raccontano a chi usa la commemorazione. Così l'ex avvocato, diciamo Giorgio Sacerdoti, avvocato giurista ed esponente della comunità ebraica e presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Lo stemma non ha a che vedere con Israele, ma si trovava sulle divise dei liberatori. Andiamo anche all'interno del quotidiano La Repubblica, che invece propone sul 25 aprile un'intervista al Ministro della Cultura San Giuliano. Giusto il tempo di arrivare nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica. Eccoci qua, vedete, intanto un paese in festa, tutte le piazze della liberazione, da Trieste a Palermo si celebra il 25 aprile, i cortei principali a Roma e Milano, dove ci sarà anche la leader Dema Elishlein con lo scrittore Scurati, eppure Salvini annuncia la sua presenza, Meloni sarà invece all'altare della patria. Poi su questo, ovviamente il 25 aprile, San Giuliano il 25 aprile è di tutti, inutile dire ogni giorno di essere antifascista. Oggi sarò al Museo di Via Tasso, la liberazione non è merito della minoranza partigiana comunista. In Europa la lotta al nazifascismo la fecero due uomini di destra, Winston Churchill e il generale De Gaulle, spiega il quotidiano La Repubblica in questa intervista a San Giuliano. Ma perché per la destra italiana l'antifascismo sembra ancora un tabù? Questa è la domanda al ministro San Giuliano. L'antifascismo è sicuramente un valore, l'ho detto più volte, ma lo è allo stesso modo anche l'anticomunismo, poiché sono un giornalista, le domando, ma lei si sente anticomunista? Il suo direttore lo è certamente, questo spiega San Giuliano ovviamente a Carmelo Lopapa che lo intervista. Andiamo avanti sempre con le notizie che riguardano appunto la festa del 25 aprile, lo facciamo anche con le celebrazioni del 25 aprile, lo facciamo anche con i titoli del quotidiano Il Tirreno, giusto il tempo di arrivare nelle pagine interne. Eccoci qua, 25 aprile, la festa più importante, noi vogliamo esserci e suonare. Parla Finaz, chitarrista della banda Bardot, oggi in concerto a Fornacette, sul palco col gruppo che ha perso il frontman Enriquez, farà il suo esordio Cisco. Ci piace celebrare questa data fondativa per il paese, dice Finaz, è il giorno in cui siamo usciti dall'immane tragedia del fascismo. E poi vedete la giornata di oggi, la vicepresidente della Camera, Anna Scani, sarà a Sant'Anna di Stazzema per inaugurare la Stele e poi quel giorno d'aprile con Francesco Guccini, invece a loro ciuffenna, insieme ad Andrea Scanzi. Questi sono alcuni degli appuntamenti. E poi questa storia che invece arriva da Empoli, Rina e Remo, eroi della resistenza, il loro esempio ci insegna ancora. I nipoti sono pericolosi, coloro che non vogliono rinnegare il fascismo. Non posso vedere le immagini degli studenti manganellati a Pisa, spengo la TV, raccontano i nipoti. E poi, sempre all'interno del quotidiano del Tirreno, l'intervento di Vannino Chiti, presidente dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'età Contemporanea, il 25 aprile sia festa di tutti, senza retorica, fermare le guerre sia l'impegno prioritario, lo chiede la Costituzione, così sul 25 aprile, Vannino Chiti, che tra l'altro è stato presidente della Regione Toscana. Andiamo avanti sempre con le notizie che riguardano ovviamente Firenze e la Toscana, scusate, in questo caso le notizie principali del giorno, andiamo all'interno del quotidiano di Corriere della Sera, eravamo rimasti ovviamente al tema della liberazione, ma c'è questo nuovo caso che riguarda ovviamente la RAI, il servizio pubblico. Senatrice, lei ebrea, nuova polemica in RAI, e Rama contesta report. La domanda a Esther Mieli su Radio 1 da parte di Giorgio Zanchini, conduttore di Radio Anch'io, l'amministratore Sergio si scusa. Ma vedete, questi due episodi, da un lato, durante la trasmissione Radio Anch'io su Radio 1, ieri è stato chiesto dal conduttore Giorgio Zanchini alla senatrice di Fratelli d'Italia, Esther Mieli, se fosse ebrea, nell'ambito di una discussione sulle proteste degli studenti per la guerra in Palestina. Molte critiche. Poi, la chiamata del Premier, il Premier albanese, è di Rama, ha attaccato la trasmissione TV Report di domenica scorsa dedicata all'accordo tra Italia e Albania sui centri per i migranti. Rama è stato poi criticato per aver telefonato alla RAI, ho solo detto che in TV non c'è stato dato contraddittorio, ha dichiarato il Premier albanese. E poi, vedete, ci sono, ovviamente, le due reazioni, da un lato il conduttore, Giorgio Zanchini, dice, mi hanno già mollato tutti, volevo portarle solidarietà. Stando vicino a Mieli, ho sentito tutta la sua rabbia, poi ci siamo fatti un selfie e le ho detto, brava. Se ho ferito qualcuno, mi scuso, dice Zanchini, ma è assurdo puntarmi contro il dito. Io ho un sacco di cugini ebrei. Crede che quella che definisce incomprensione sia dovuta al clima di contrapposizione che si respira? Spero di no, ma il sospetto mi viene. Mi hanno già mollato tutti. E poi, il senatore Gasparri è stato inaccettabile, aveva un tono sgradevole. Io conosco la senatrice di Fratelli d'Italia, Esther Mieli, da una vita da giornalista, lavorò con Alemanno, sindaco con la ministra Gelmini. Sempre sorridente, solare, gentile con tutti. Stavolta invece, stavolta l'ho vista indignata, dice Gasparri, al Corriere della Sera. Andiamo a occuparci invece di quello che accade nel conflitto russo-ucraino. 60 miliardi per l'Ucraina, a Kiev, già i missili a lunga gittata, sbloccati anche gli aiuti per Israele, Taiwan, e l'assistenza per i civili. A Gaza, andiamo anche all'interno del quotidiano del Corriere della Sera, invece con il ministro Giorgetti che lancia l'allarme sul super bonus per i conti pubblici. È un mostro, nessun compromesso o lascio il tesoro sulla linea del rigore. Quella misura ha distrutto le condizioni della finanza pubblica. Fitch avverte, servono interventi sul debito pubblico anche nel breve periodo. E poi, sempre all'interno del quotidiano del Corriere della Sera, la situazione si fa complessa anche per la manovra, perché gli sgravi arrivano senza coperture e i nuovi vincoli europei invece sono pronti ad arrivare. Servono circa 20 miliardi. Meloni, non si tolgano poteri alle nazioni. Il richiamo del Fondo Monetario. Andiamo all'interno del quotidiano il Corriere della Sera con questa notizia che riguarda Piero Fassino. Ha tentato di rubare un profumo. Denunciato Fassino, volevo pagare. L'episodio a Fiumicino, l'ex ministro stupito, avevo le mani occupate e l'ho messo in tasca. Ma, diciamo così, c'è stato questo fraintendimento secondo Fassino, secondo ovviamente il Duty Free Shop dove è accaduto l'episodio. Non è andata così. Sempre all'interno del quotidiano il Corriere della Sera con le violenze all'interno del carcere minorile Cesare Beccaria a Milano. I referti beffa al Beccaria dopo le violenze sui ragazzi. Milano, zero giorno di prognosi al detenuto ridotto in semi-incoscienza dagli agenti. Sono 13 in tutto gli agenti della Polizia Penitenziaria arrestati e 8 quelli sospesi tutti in servizio al carcere minorile Beccaria di Milano. I reati vanno dalla tortura ai maltrattamenti. Eravamo soli abbandonati dalle istituzioni così alcuni agenti arrestati interrogati hanno cercato di giustificare le violenze nei confronti dei minori detenuti. Silenzi e omertà dei direttori reagenti dell'istituto oppure connivenze anche del personale medico sono i nuovi fronti che l'inchiesta tenta di esplorare. Poi sempre all'interno del quotidiano di Corriere della Sera con due notizie la prima che riguarda Alfredo Cospito oggi 56enne condanna confermata niente il gastolo per le bombe 23 anni di reclusione per l'attentato alla caserma di Fossano nel 2016 l'anarchico nel 2022 scioperò anche perché rischiava il carcere a vita ostativo vi ricorderete poi tutte le polemiche che nacquero perché l'onorevole Donzelli rese nota la visita dei parlamentari del Partito Democratico Medicina sì alla riforma stop al test d'ingresso la prima selezione dopo sei mesi di lezione resta il numero chiuso l'ordine dei medici spiega la propria contrarietà e poi siamo a Venezia con il ticket d'ingresso il ticket d'accesso sono 82 mila registrati sul sito debutta oggi il pagamento di 5 euro per i turisti giornalieri i paganti sono oltre 7 mila spiega il quotidiano del Corriere della Sera c'è anche questa intervista a Piero Pelù confesso che mi sto facendo aiutare da un professionista per combattere la depressione causata anche dai pensieri legati alla fine dell'itviva ora rinasco un incidente sul lavoro ho avuto uno shock acustico ma io sono come il ferro che resiste anche se subisce un impatto molto violento andiamo avanti sempre con i titoli del giorno lo facciamo con il quotidiano La Repubblica e le notizie all'interno ovviamente dell'edizione di oggi con vedete la proposta di Schlein alla sanità il 7,5% del prodotto interno lordo entro il 2028 il piano di Schlein per sfidare Meloni al via in commissione l'esame del testo che taglia le liste d'attesa la premier mente sui fondi e dice che sono in calo e le Schlein e poi vedete la notizia che abbiamo letta anche sul Corriere della Sera il deputato Fassino esce dal duty free con lo Chanel in tasca ma non volevo rubarlo il deputato del Partito Democratico denunciato per tentato furto alla security dell'aeroporto di Fiumicino che lo ha bloccato il profumo non pagato ha detto mi ha squillato il telefono non ho tre mani ma un video lo smentisce spiega il quotidiano La Repubblica andiamo sempre all'interno del quotidiano La Repubblica con piante dosi che invoca la stretta sui cortei pene più dure a chi assale gli agenti il ministro dell'interno e il pacchetto sicurezza non è più rinviabile e i fatti di Torino lo dimostrano sempre all'interno del quotidiano La Repubblica con questa notizia che riguarda l'importanza della cyber security e l'importanza dell'agenzia per la cyber sicurezza hacker contro pubblica amministrazione e imprese nel 2023 un attacco al giorno relazione alla Camera le guerre muovono attivisti web a rischio addirittura le elezioni europee questo il report che diciamo così è stato reso noto alla Camera dei Deputati sugli attacchi informatici siamo all'interno del quotidiano La Nazione con le notizie del giorno eccoci qua memorie di una sopravvissuta Nia torna dalla Svezia a 94 anni voglio esserci con Mattarella non dimenticare è un dovere i genitori vennero portati a Monte San Savino e fucilati con l'accusa di essere spie Mamma Elga spiegò al comando che a Civitella erano estranei alle violenze del dopolavoro e poi vedete sempre all'interno del quotidiano della Repubblica invece la rondine che parla di pace il vero nemico è la guerra a Firenze l'incontro con i ragazzi ospitati dalla cittadella e la raccolta fondi e poi siamo a Prato con questa notizia di cronaca risse fra gang dei minori la faida italiani e cinesi nei giardini di Chinatown finisce con 24 indagati chiusa l'inchiesta sulle aggressioni e le vendette avvenute a Prato nel 2023 le bande rivali si sarebbero affrontate anche con tubi di ferro e tirapugni sempre all'interno del quotidiano La Nazione SOS Infrastrutture anche a Lucca e Livorno lanciano l'area vasta i piani comuni ci sono il confronto istituzionale dopo le parole del sindaco di Pisa Conti Pardini indispensabile fare squadra per un nuovo sistema e Salvetti lancia il progetto Tram lo scenario sta cambiando e dunque attenzione alla Toscana della Costa che si organizza La Nazione di Firenze Traffico Light il piano di Funaro la candidata del centro-sinistra lancia i banchetti nei quartieri che saranno i punti di ascolto dei fiorentini poi il progetto mobilità via i bus turistici dal centro storico e stop ai mezzi di Alia nelle ore di punta a centro pagina morte di Mattia c'è un video i carabinieri sequestrano il filmato dei soccorsi al calciatore ieri il recupero tra Lanciotto e Castelfiorentino la commozione dei compagni nel taglio alto un appello da Brozzi a Peretola toglieteci gli aerei dalla testa Novo li chiede spazi di socialità e poi nel taglio basso la cerimonia del 25 aprile il giorno della libertà fra impegno di piazza e il ricordo di chi c'era spiega il quotidiano La Nazione proprio su questo vedete il giorno della libertà cortei e impegno civile contro ogni ritorno di regimi autoritari il monologo di Scurati sull'antifascismo sarà letto in molte piazze sull'arengario di Palazzo Vecchio la performance di Stefano Massini inoltranno la mobilitazione dei centri sociali invece in santo spirito e poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione Sara is in i punti di ascolto di Funaro stop dei bus turistici via dal centro la candidata Lem lancia il bacchetto nei quartieri poi la promessa di alleggerire il traffico in città vedete due notizie che riguardano Forza Italia che si ribustisce e ora 109 vigili candidati Francesca Cappellini e Alberto del Sarto e poi Saccardi in bianco e blu un logo in stile europee il simbolo della candidata renziana andiamo all'interno del quotidiano La Nazione contorna il sole il doppio ponte è salvo boom di turisti città piena al 90% da oggi al 28 aprile numeri superiori al fine settimana di Pasqua più sottotono i giorni intorno al primo maggio poi sempre all'interno del quotidiano La Nazione la morte del giovane calciatore soccorsi acquisito un video il dramma minuto per minuto uno spettatore stava riprendendo Lanciotto Castelfiorentino quando Mattia Gianni è stato colpito dal malone dai primi minuti di caos all'arrivo dell'ambulanza a cosa testimoniano le immagini che aiuteranno gli inquirenti e poi la partita maledetta per sempre con noi Iebi il recupero del match al Galluzzo lacrime e applausi per il 26enne il direttore generale Vaglini era di una sensibilità di un'educazione fuori dal comune e vedete gli striscioni al Buozzi Mattia sempre con noi sempre all'interno del quotidiano parazione con la strage nel cantiere di via Mariti trave crollata i tempi si allungano il consulente chiede una proroga l'ingegnere nominato dalla procura non ha ancora concluso la sua relazione sugli elementi che hanno ceduto e travolto gli operai ha certamente in corso anche sui telefoni sequestrati e poi questa notizia ruba per fame fermato spesa pagata dagli agenti in un centro commerciale un senza tetto è stato identificato dopo un furto dopo aver sentito la storia i poliziotti hanno deciso di comprargli del cibo spiega il quotidiano la nazione in edicologia poi l'altra notizia che invece riguarda la giornata di ieri in piazza Oberdan il bus finisce contro una facciata Autolinea Toscana indaga problema ai freni vedete proprio l'immagine del bus che praticamente ha preso la facciata di un palazzo anzi uno degli angoli della piazza nel pomeriggio di ieri siamo all'interno del quotidiano la nazione con le notizie che arrivano da Sesto Fiorentino il cartonificio altro sciopero l'azienda ci ha snobbato i lavoratori annunciano anche un'assemblea davanti al cancello della sede al centro delle proteste la mancanza di confronto e l'assenza di un piano fieri e poi alluvione piano della commissione incontri con l'AMMA e consorzio siamo a Campi Bisenzio in cima alle liste delle priorità anche una ricognizione dei luoghi al centro dell'esondazione il presidente Monticelli siamo al lavoro per fissare il calendario delle prime tre sedute e poi siamo a Fiesole con la decisione di Edoardo Canino di candidarsi sindaco elezioni Canino scende in campo la città ha bisogno di sicurezza l'ex luogotenente dei Carabinieri fondatore del circolo del tennis si candida con una lista civica di centro-destra e dunque sarà candidato sindaco a Fiesole andiamo anche all'interno del quotidiano della Repubblica con l'edizione di Firenze sull'aborto la regione stoppa e provita non entreranno nei consultori l'assessore Bezzini troviamo sbagliata la possibilità introdotta dall'emendamento voluto dal governo e poi la festa del 25 aprile la rivelazione in piazza Signoria Massini legge il testo di Scurati l'intervento dall'esistenza va raccontata cimeli e bandiere non bastano nel taglio basso poi la notizia che arriva da Prato baby gang indagati 24 ragazzini i carabinieri gli adulti riflettano nel taglio alto poi la notizia che riguarda la Fiorentina Fiorentina la beffa più grande Coppa Italia Bergamo Viola in 10 sconfitti solo le minuti ricopero 4 a 1 Atalanta in finale e poi a Palazzo Vecchio gli autovelox non omologati ma restano in funzione grande polemica ovviamente sull'omologazione degli autovelox all'interno del quotidiano La Repubblica con la festa del 25 aprile Massini in piazza lettura colare del testo di Scurati in Ardella stamperemo 500 copie le distribuiremo a chi sarà presente Funaro proporrò di poterlo far leggere anche nelle scuole e poi vedete cimeli lapidi e bandiere non sono sufficienti la resistenza va raccontata Valerio Aiolli scrittore finalista del premio strega racconta oggi su Repubblica appunto l'importanza della resistenza viaggia inoltrarno tra i ricordi di Barducci detto potente e degli altri partigiani fino alla memoria custodita nel circolo 25 aprile andiamo sempre all'interno del quotidiano La Repubblica con l'appello di padre Bernardo la parte della basilica di San Miniato durante un incontro all'isolotto a cui ha partecipato anche Don Gambelli futuro vescovo che lancia una nuova iniziativa dopo la faccolata di ottobre andrebbe concretizzata entro San Giovanni il 24 giugno ora il tempo ora il tempo delle parole padre Bernardo in piazza per la pace il futuro vescovo dobbiamo fare rete la bate di San Miniato durante un incontro all'isolotto a cui ha partecipato anche Don Gambelli Don Gerardo aggiunge l'unione fa la forza e in questi casi ancora di più è necessaria una spinta dal basso e momenti di preghiera sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze con vedete la neve perché si scia la betone in Val di Luce oggi pista aperte e forse fino a domenica saranno percorribili le discese Tre Potenze Montegomito e la Zeno 3 con i relativi impianti spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze poi siamo all'interno delle pagine della Repubblica con invece la posizione della regione sull'aborto sull'aborto la regione stoppa e provvita ma mai nei consultori l'emendamento voluto dal governo lascia libertà di scelta e l'assessore toscano alla salute Bezzini qui non si farà e poi spiega non arretreremo di un millimetro sul tema dei diritti delle donne siamo all'interno ancora del quotidiano Repubblica con la questione del rigassificatore a Piombino dove si ferma il ricorso e si apre la partita delle compensazioni il comune ha deciso di non appellarsi contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale che gli aveva dato torto Gianni tutto era stato fatto nella legalità il sindaco Ferrari la città ha dato tanto ora risorse per il rilancio del territorio e quindi il sindaco Ferrari pensa ovviamente alla partita delle compensazioni poi sempre all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze risse con tubi di ferro martelli e tirapugni scontri tra baby gang indagati 24 ragazzini spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze sempre all'interno invece del quotidiano la Repubblica di Firenze per sempre con noi in campo le maglie che salutano Mattia ieri il recupero della partita tra Lanciotto e Castelfiorentino sospesa dopo il malore costato la vita a Gianni noi scossi e depressi non deve più accadere spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze raccontando ovviamente questa partita tra Castelfiorentino United e Lanciotto Campi nel ricordo di Mattia Gianni stroncato da un malore mentre si giocava a Campi Visenzio la partita ovviamente prevista dal calendario il Corriere Fiorentino allarme dalla procura per i minori è il titolo di apertura a ottobre parte il nuovo tribunale della famiglia ma mancano magistrati personale e strutture il neoprocuratore Capo Pieri la riforma si scontra con gravi difficoltà più reati in dieci anni sono cambiati ragazzi e genitori e poi vedete addio Coppa il titolo con Ranieri che si mette le mani sulla testa rosso a Milenkovic gli errori il Vara al 94esimo 25 aprile la Valdichiana fa appello a Mattarella a Firenze 500 volte scurati spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino in edicola oggi né personale né strutture così il tribunale della famiglia nascerà già in difficoltà il neoprocuratore per i minori della Toscana Roberta Pieri lancia l'allarme a ottobre parte la riforma ma mancano magistrati e metà degli amministrativi in dieci anni sono cambiati ragazzi e genitori anche lo smartphone è diventato un mezzo per compiere reati sempre all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino con invece israeliano palestinese russa ucraina per la prima volta in pubblico insieme quattro ragazzi di rondine della comunità alle porte di Arezzo a Palazzo Vecchio Baccari con coraggio ci indicano la via verso la pace poi nel taglio basso da Civitella l'appello al capo dello Stato no a prescrizioni per la strage nazista oggi Mattarella in Valtichiana a Firenze distribuito il monologo di Scurati questi festeggiamenti per il 25 aprile e poi c'è questa notizia che riguarda lo spettro dei tagli all'indennità dei presidenti di quartiere applicato a Milano potrebbe arrivare anche a Firenze così il ruolo è a rischio i presidenti di quartiere al momento percepiscono intorno ai 50.000 euro lordi annui 4.000 al mese mentre i consiglieri percepiscono solo i gettoni da 45 euro lordi a seduta però il punto vero è che questa riforma scatterebbe per i comuni con più di 300.000 abitanti e quindi attenzione perché Firenze potrebbe rientrarci anche se non si sa bene quale sarà l'applicazione applicato a Milano potrebbe arrivare anche a Firenze così il ruolo è a rischio dicono ovviamente molti presidenti dicono i presidenti di quartiere sempre all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino la scuola è rifatta grazie alla PNRR ma adesso mancano i bambini all'elementare salviati solo 7 nuovi iscritti per la prima così il ciclo non riparte e poi siamo inoltrarno per ora solo metà è stata completata ma con le toppe cartelli confusi e impalcature sulla strada l'asfaltatura a pasticcio di Via Romana l'intervento per il passaggio del tour incertezze cantieri e disagi per i residenti spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino poi vedete anche quello che è accaduto ieri a Carrara mio fratello ucciso due volte prima dal marmo ora dalle parole e Isabetta Sofia e gli altri parenti dei morti in cava tra i 2000 in marcia ieri a Carrara per appunto questa manifestazione dopo le parole dell'imprenditore Franchi del marmo ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco con tutte le notizie di oggi e l'ampia rassegna stampa sportiva con Refresh restate con noi Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh buona giornata ad Andrea Vignolini e buon 25 aprile abbiamo letto insieme le notizie principali del giorno per quanto riguarda appunto tutte le celebrazioni del 25 aprile in Toscana abbiamo avuto con noi il sindaco di Civitella Valdichiana dove oggi arriverà il presidente della Repubblica Mattarella per ricordare l'eccidio in provincia di Arezzo e adesso è il momento di concentrarci anche sulle notizie che arrivano da Carrara perché quella di ieri è stata la giornata della mobilitazione dei cavatori vediamo siamo sulla nazione di Massa Carrara 2000 in corteo il giorno della rabbia cavatori e cittadini in piazza per la dignità dal quartier generale della FU Mannazzano alla sede di Confindustria per rivadire i diritti di chi lavora quelle frasi hanno offeso tutti in particolare la frase di Alberto Franchi imprenditore del marmo che praticamente si è lasciato sfuggire a report qui si fanno male perché sono deficienti facendo riferimento ovviamente agli infortuni sul lavoro gli studenti attivisti qui per difendere il nostro futuro i ragazzi dello Zaccagna e Atamanta per l'ambiente e poi vedete per la sicurezza i sindacati sfilano con i parenti delle vittime Franchi un figlio sano dall'astrattivismo gli ammettalisti accusano l'intero sistema delle cave e invocano le barricate ma ieri Rachele Campi ha intervistato la sorella di una vittima del lavoro appunto nelle cave del marmo vediamo il servizio di Toscana Tg che è il numero due regia indossa una maglietta che spiega molto bene quello che le è successo posso chiedere di raccontarmi i fatti come sono andate io non ho mai detto niente sulla morte di mio fratello però le parole del signor Franchi mi hanno colpito nell'anima anche perché mio fratello non ha più modo per poter controbattere questa cosa quindi mi trovo io qui a dire quello che lui non può più dire il signor Franchi quando dice che i deficienti passano dove non dovrebbero passare io posso dire che mio fratello era stato messo dal suo datore di lavoro quella mattina nel piazzale a ambragare un blocco e tra l'altro non era la sua mansione perché la sua mansione era tutt'altro se non lucidare delle marmette così si chiamano pezzi di marmo e quindi non posso far passare da deficiente mio fratello che da 39 anni si trova a 150 metri da dove il signor Franchi ha il diciamo deposito quello io non sapevo neppure che qui ci fosse il signor Franchi questa cosa mi ha colpito nell'anima lo ripeto e quindi sono qui a portare voce a mio fratello il quale non può più parlare ho conosciuto mio fratello siccome avevo 5 anni e lui andò a lavorare perché mio padre si sentì male a 17 anni per portare un pezzo di pane a casa quindi io posso dire che ho conosciuto mio fratello a 150 metri da qui dove ci troviamo fino ad oggi dall'85 a 2024 e ripeto dare del deficiente a una persona la quale non può più parlare e controbattere no non glielo posso permettere andiamo avanti anche con i titoli all'interno del quotidiano il terreno vedete sciopero dopo la frase shock 2000 persone in corteo in prima fila alcuni familiari delle vittime sul lavoro nel settore lapide o siamo sorelle e figlie dei deficienti perché non ce lo dice in faccia queste le parole poi la politica scende in piazza a Nardini c'è una ricchezza polarizzata in mano a pochi Monni e sindaca di Carrara a Righi redistribuzione più equa nel taglio basso gli imprenditori ora ritirino i ricorsi del vecchio della CGL vogliono chiedere scusa basta col ricatto occupazionale andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano il terreno a Firenze con la storia ho rubato perché avevo fame e i poliziotti gli fanno la spesa il protagonista della vicenda è un senza tetto di 33 anni questo spiega il quotidiano il terreno ne dico la oggi e poi la sanità poco personale strutture obsolete servono assunzioni e investimenti dall'ospedale Torregale SOS della funzione pubblica della CGL rischio di esternalizzazioni e poi la tramvia Sesto Fiorentino entro cinque anni via libera ai fondi per il progetto spiega il quotidiano il terreno in edicola oggi andiamo anche a occuparci di quello che accade nel comprensorio del cuoio in particolare Santa Croce e allarme con ceria e calzaturiero cassa integrazione per 2700 addetti la CGL già 75 licenziamenti in quattro mesi molte aziende a rischio e adesso apriamo l'ampia rassegna stampa sportiva con la Fiorentina ieri battuta 4 a 1 dall'Atalanta in finale di Coppa Italia va l'Atalanta eccoci qua Amaro Viola il titolo del Corriere allo Sport Stadio la rassegna stampa la commentiamo insieme a Dario Baldi buongiorno Dario ben trovato poco buongiorno stamani poco buongiorno diciamo tanto amaro diciamo che oggi è ancora più amaro di ieri sera va bene andiamo all'interno del Corriere allo Sport Stadio il dentista fa male alla Viola la Fiorentina in 10 resiste all'Atalanta quarta pareggia la rete di Copminers ma poi Scamacca e nel recupero Lukman e Pasalic allungano allora c'è da dire questo è stato incomiabile tutto quello che ha fatto la Fiorentina perché l'episodio chiave che ha deciso poi la partita è stata l'espulsione di Milenkovic senza quella non sappiamo come sarebbe finita ma detto questo in 10 aveva trovato il pareggio ha resistito fino all'ultimo su quella rimessa laterale battuta da Caglioli in cui la squadra è salita e si vedeva proprio l'immagine di Italiano che faceva cenno alla squadra di salire come dire proviamoci vediamo se riusciamo a segnare e andiamo in finale poi è scattato il contropiede letale dell'Atalanta e poi il VAR e tutto quello che ne è conseguito per un finale trilling e poi dopo il gol del 4-1 è stata una partita però dove alla fine la Fiorentina è stata in gara fino nonostante fosse in 10 fino al 94esimo quindi non c'è niente da recriminare o sì secondo te Dario allora secondo me non c'è niente da recriminare forse c'è da recriminare il fatto che Milenko ci si è fatto buttare fuori un po' da pollo c'è una diagonale quella veramente da scuola calcio cioè se pensi alla diagonale che poi chiude Comuzzo quando entra dentro che fa capire forse del fatto che questo ragazzo bisognerebbe dargli un attimino un pochino più di spazio poi per quanto riguarda quello che dici te sono molto d'accordo il gol dell'Atalanta io ero allo stadio ci ha affreddato veramente molto a tutti perché quel bar lì glida ancora vendetta quindi non sono qui a gridare allo scandal arbitraria assolutamente no la Fiorentina è rimasta in campo anzi per quelli che hanno sempre criticato Italiano perché va troppo all'arrembaggio pensa fino all'espulsione fino al gol dell'Atalanta abbiamo giocato belli chiusi dietro senza salire troppo senza scoprirsi troppo e quindi sorrido perché ieri sera diciamo Italiano un po' gliel'aveva messa a quelli che lo ritiano sempre come vorrebbero come volevano loro vedere la Fiorentina sì poi quella rimessa laterale grida ancora vendetta dentro di noi perché la domanda è come mai l'abbiamo fatto poi Italiano un po' l'ha spiegato dopo perché voleva vincere voleva segnare voleva vincere voleva vincere il segnale perché 30 minuti ha definito un'agonia sarebbero stati un'agonia ha detto il problema è che l'agonia bisogna il calcio bisogna saperci stare per 120 minuti l'Atalanta stava salendo però io il supplementare li avevo fatti ti dico la verità però Dario bisogna anche essere onesti l'Atalanta aveva messo in campo tutto il potenziale offensivo a disposizione c'erano tutti in campo praticamente quindi sarebbero stati 30 minuti complessi quelli dei supplementari su questo poi detto questo rimane sempre il fatto qualora le avessi giocati come sarebbe finita urlo quarta il titolo del Corriere allo Sport Stadio all'interno ma la testa non basta il difensore argentino segna il ventesimo gol aereo stagionale prima del crollo della Fiorentina l'analisi italiano amareggiato l'espulsione è stata decisiva e su questo non c'è dubbio andiamo anche all'interno del Corriere Fiorentino eccoci qua com'è amare a Bergamo Coppa Italia e Viola soffrono l'Atalanta ma restano in partita poi la beffa finale col VAR niente finale con la Juventus spiega il Corriere Fiorentino e dicola oggi quarta gol e l'amaro record delle reti segnate di testa la Fiorentina ne ha fatte 20 nessuno ha fatto meglio per il Cino appena entrato e il settimo sigillo stagionale una media da bomber e anche questo fa riflettere diciamo sull'altro dato stagionale ovvero la carenza dei gol dei centravanti Dario guarda stamani ho visto continua a dare 5 e mezzo a Belotti perché lotta ieri abbiamo visto la differenza tra un bomber che lotta e un bomber che lotta ma fa anche gol perché a me non sta particolarmente simpatico ne ha fatti due poi non guardare uno gliel'hanno tolto però detto questo ieri abbiamo visto c'è un bomber che lotta e anche appunto fa gol l'altro invece lotta e basta e ci dobbiamo addirittura anche stamani il 5 e mezzo in una partita dove anche lì Belotti ha fatto veramente veramente poco e quindi la differenza sta tutta lì e quindi il fatto che in quarta abbia fatto si è arrivato a fare questi gol sì è vero per l'amor di Dio la squadra segna siamo tutti bravi a segnare mettiamo tantissimi giocatori in gol a differenza non c'entra avanti solo però inserate come quella di ieri avere un bel car armato lì davanti alla scamacca ti fa molto e l'abbiamo visto andiamo anche all'interno della gazzetta dello sport scamacca trascinatore la viola in 10 crolla Atalanta poker e festa è il titolo la Dea si prende la finale è un euro scamacca Atalanta bellissima in estate sognavo di vivere notti così poi sempre all'interno del quotidiano della gazzetta dello sport italiano partita decisa dall'espulsione vorrei rivedere il fallo su Nico si è discusso molto diciamo di quel fallo di Carnesecchi su Nico Gonzales che di fatto gli prende il piede d'appoggio però il VAR ha deciso ovviamente credo che non sia stata nemmeno vista al VAR quell'azione o comunque l'avranno vista e non l'hanno nemmeno valutata dal rigore ieri sera invece ho visto in televisione grande dibattito su quell'episodio tu che ne pensi Dario? ma guarda io ti dico come lo sono riguardato quando sono tornato a casa perché anche da lì tutti ci riscrivevano da casa quello è rigore netto quello è fallo e quant'altro io nel guardarlo penso che quello lì appunto fosse un episodio a favore della Fiorentina non l'hanno neanche riguardato al VAR diciamo che normalmente gli atalantini sono bravi a guardare anche le piccolezze no? quando ci sono delle piccole sviste oppure dei piccoli episodi ecco ieri sera né Gritti né Gasperini li ho sentiti lamentarci di questo fallo di questo fallo del fatto che il VAR non si è intervenuto sorrido e basta mi limito a fare quello e a rosicare un po' per non essere come il 15 vediamo anche le pagene della Gazzetta dello Sport qua a me saggio e utile è vero perché qua a me quando soprattutto la squadra è rimasta in inferiorità numerica è stato utilissimo nel gestire la palla nel far ripartire la squadra è stato veramente utile forse diciamo finché eravamo in 11 proprio non brillava prende 4 e mezzo Milenkovic prende 6 Comusso perché fa una chiusura decisiva sul radente di Miranciuk che è stata importante perché quella chiusura di fatto era gol quella era gol tutta la vita è stato bravissimo hai ragione tu evidentemente Comuzzo se sta così noi non sappiamo niente di come stanno i giocatori perché ovviamente la stampa non vede gli allenamenti non si sa niente ti affide il report però se Comuzzo sta così hai ragione tu è il momento di farlo giocare viste le condizioni di Milenkovic e visto che lì dietro comunque abbiamo bisogno di ricambio abbiamo bisogno di ricambio Milenkovic non è con la testa attaccata diciamo al corpo come un tempo ovviamente in maniera figurata Milenkovic era la nostra garanzia e anche ieri abbiamo visto le garanzie ne ha poche quindi ti dico tanto vale vedere sto ragazzino trattarlo con i guanti e vedere di portarlo alla prossima stagione perché l'avevamo visto nell'amichevole col Newcastle l'abbiamo visto pochi minuti e spezzoni durante l'anno adesso mi sembra sia arrivato il momento cioè fa veramente una chiusura su Milenkovic che se appunto l'avesse fatta Milenkovic in relazione dell'espulsione forse non sarebbe stato espulso è stato un intervento molto intelligente quello di Comuzzo quindi io gli avrei dato anche di più perché fa una chiusura che praticamente in quel momento lì non ti dico ci salva ma quasi andiamo su da Nazione nella parte sportiva del QS Coppa Mara che illusione addio sogno troppi errori l'Atalanta passa dopo il novantesimo all'interno del quotidiano l'azione gli errori l'orgoglio e il crollo finale gara da pazzi follia di Milenkovic viola all'inferno nei 5 di recupero Atalanta in vantaggio dopo 8 minuti poi la Fiorentina resta in 10 ma trova la forza di pareggiarla con quarta scamacca gol supplementari a un passo nel recupero la squadra si fa cogliere di sorpresa in contropiede i due editoriali il primo di Stefano Cecchi il rimpianto della gara di andata passerà ma adesso fa davvero male la prova di cuore ma soliti problemi la storia recente non insegna nulla scrive invece Benedetto Ferrara le pagelle della Nazione con il migliore Lucas Martinez quarta che prende 6 e mezzo il peggiore Nicola Milenkovic 4 e mezzo prende 5 Terracciano però ragazzi Terracciano ieri sono arrivati dappertutto è vero sicuramente avrà le sue responsabilità però ieri veramente gli sono arrivati da tutte le parti ha fatto quello che ha potuto non so se tu sei d'accordo Dario sì io non sono d'accordo per andare contro Terracciano oggi diciamo per quello che sta facendo durante l'anno bastava 5 e mezzo visto la sconfitta poi i 4 gol diciamo sono un risultato falso perché sul 3 a 1 noi ci siamo fermati sì Terracciano può diciamo sul primo gol poteva fare qualcosina in più però andare a forzarlo con un 5 al pari appunto di uno come Mandragora non mi sembra non mi sembra giusto nei confronti di un portiere che sta facendo tanto in questa cioè mi dici ha fatto un paperone ok preve di papere non ho visto ieri anzi a un certo punto a impostare era praticamente Terracciano stesso dalla porta va bene andiamo all'interno ancora della nazione l'amarezza di Italiano noi sempre in gara espulsione decisiva il tecnico deluso abbiamo dimostrato di reggere bene anche in dieci tutti super la rimessa di Cajode volevo evitare i supplementari spiega Italiano e poi sono queste parole di Prade nel prepartita che ha detto Firenze ambita da tanti tecnici quindi questo fa capire che diciamo così Italiano a fine stagione saluta e che ci sono tanti allenatori che vogliono la panchina della Fiorentina Dario ma io guarda io spero di vedere qualcuno che appunto che ha voglia della panchina della Fiorentina ma ha appunto voglia anche di far bene e che casomai non sia un acquisto a ribasso come penso sia Aquilani io lo sai non sono un Aquilanista sono più un Girardinista in questo momento o anche un Palladinista c'è anche da capire chi affiancherà Prade perché io ti dico la verità non sono un grande fan di Massià diciamo che di Riminiestra riscaldata ne abbiamo già mangiata la ribollita Corvino poi ancora Prade poi Corvino poi ancora Prade che riprendiamo un'altra volta Massià per ricordarci del 2012 cioè io eviterei il ricordo costante io piuttosto come un Accardi Accardi mi piace a me come figura da affiancare a Prade però appunto poi non mi sembra che Budisto abbia lasciato questo grande segno e ci strappiamo i capelli poi va a Roma prenderà un bomber un crack dall'Argentina e lì cominciamo a rosecare come sempre tutto questo ovviamente bisogna anche vedere cosa ne sarà della società Viola intesa come proprietà perché poi c'è anche questo grande interrogativo diciamo sull'eventuale cessione della Fiorentina la Repubblica di Firenze Viola che peccato in 10 resiste ma alla fine molla Coppa Italia a Bergamo la Fiorentina beffata nei minuti di recupero 4-1 l'Atalanta vola in finale contro la Juventus espulso Milenkovic all'inizio della ripresa l'illusione del gol di Martinez Quarta prima dell'amarezza scrive Giuseppe Calabrese e ora non rimane che la conference prima di salutare Italiano peraltro il Bruges ieri ha fatto molto bene contro il Genk starà bene anche il Bruges ma insomma la Fiorentina visto come ha giocato anche ieri sera ha tutte le possibilità per arrivare in finale di conference sì come l'anno scorso con il Basilea partiamo da una gara in casa che non è da sbagliare c'è da evitare di fare come abbiamo fatto con il Basilea l'anno scorso c'è dobbiamo secondo me entrare come siamo entrati ieri con la testa concentrati cioè ieri è stata una Fiorentina che ci ha messo il cranio sulla partita cioè è entrata non come con la Salernitana è entrata lì sapeva che c'era un Atalanta che avrebbe attaccato anzi il primo tiro lo facciamo noi quasi quindi insomma io penso che la Fiorentina possa giocarsi la Holbrug e ovviamente l'obiettivo secondo me è prioritario è arrivare a Tene adesso anche perché vediamo chi ci arriverà ma l'Artonville è un netto calo in Premier League è fortissimo Emery è un gigante però attenzione perché siamo nei 90 minuti andiamo all'interno del Corriere Fiorentino con invece l'altra partita di Firenze di ieri è andata male anche quella Scandicci lotta Conegliano vince sabato a Firenze si gioca a gara 4 con Conegliano in vantaggio per 2-1 nel parziale insomma per quello che hai saputo sulla partita non so se per caso poi la rivista hai avuto modo di commentarla le vede dei report com'è andata per la Savino del Bene no mi sono guardato un po' mentre rientravo in macchina ieri sera com'è andata guarda è stata una partita dove la Savino del Bene anche lì sbaglia poco perché sia in gara 1 e in gara 2 poteva recriminarsi appunto di avere un attimo abbassato l'attenzione in alcuni punti penso a gara 1 quando poi sono andati al tie break e a gara 2 sul quarto set dove tutti abbiamo sperato che la potesse chiudere la squadra dei Barbolini ieri sera Conegliano non ha sbagliato niente ovviamente è una squadra dove per vincere devi essere perfetto al 100% e se te non sei al 100% loro ti puniscono perché sono appunto la squadra più forte al mondo forse e appunto ieri è andata così perché nel momento in cui la Savino del Bene si è avvicinata nei set poi c'è stato uno sprint del Palaverde perché ricordiamolo quel palazzetto dello sport è un palazzetto dove sia nel basket che nella pallavolo si è vinto molto e anche ieri c'è stata questa dimostrazione diciamo anche a livello rumorale quindi sabato c'è gara 4 secondo me l'obiettivo è riempire il Palavanni per provare a arrivare in gara 5 a mercoledì che sarebbe veramente una ciegina cioè tu dici già arrivare in gara 5 sarebbe in questo momento un grande obiettivo per la Savino del Bene io non avrei mai pensato che la Savino del Bene potesse lottare così punto a punto con questa squadra Conegliano sicuramente è in calo ma c'è da fargli un applauso a queste ragazze di Scandici perché stanno facendo un finale di stagione veramente veramente incredibile grazie a Dario Baldi ti ritroveremo presto nei nostri appuntamenti con Refresh per la segna stampa dedicata alla Fiorentina e allo Sport grazie buona giornata e buon 25 aprile anche a te Dario a voi andiamo avanti con i titoli del quotidiano del Tirreno di Livorno mille multe in due mesi per sosta senza lettera è il titolo di apertura e per il transito non autorizzato in ZTL sanzionate 211 persone C'è parello numeri in calo rispetto al 2023 è un buon segno andiamo anche sulla prima pagina del Tirreno di Prato ragazzi violenti 24 indagati chiuse le indagini su una serie di risse tra un gruppo di italiani e un gruppo di cinesi tra gli orientali c'era anche una squadra che si allenava per pestare i connazionali siamo anche sul sito molto seguito e apprezzato notiziediprato.it che riporta ovviamente proprio questa notizia risse e pestaggi tra bande di ragazzini italiani e cinesi chiuse le indagini su 24 minorenni ancora all'interno del quotidiano il Tirreno con le notizie che arrivano da Pisa base militare il piano si muove sia alle opere compensative stalle del Buontalenti e Stazione Marconi le stime a Roma andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con le edizioni locali giusto il tempo di arrivarci eccoci qua Massa Carrara la rivolta dei cavatori l'abbiamo vista e poi il 25 aprile le iniziative premio Assurer sempre sulle prime pagine dei quotidiani della Nazione locali siamo a Pistoia e Montecatini città blindata Ramon Davannucci il presidente Tagico dopo aver incontrato Mattarella e Meloni arriva a Pistoia per un'importante commessa a centro pagina 100.000 dosi vedete la notizia di cronaca scoperta una piantagione di cannabis in serra 1700 piante 2700 semi e un quintale di marijuana chiudiamo con la Nazione di Prato la mappa della ricchezza redditi comune per comune la classifica provinciale in media in città si dichiarano 21.146 euro a testa grazie a tutti voi per averci seguito buon 25 aprile a tutti noi torniamo domani mattina puntuali come sempre alle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agulio di una buona giornata e di un buon 25 aprile alle a tutti voi